Amici di Rete7, siamo sempre qui ad informarvi e c'è sempre l'instabilità con noi che ci segue passo passo, passo dopo passo ed in effetti, guardate, avremo ancora tempo instabile con rovesci di pioggia a partire dai rilievi anche sulla Liguria temporali che potranno sconfinare anche sulle aree di pianura a tratti però ed in maniera irregolare vedete tenderanno a viaggiare anche verso la Lombardia addirittura sui settori sudorientali della Lombardia avremo dei fenomeni anche intensi, vedete questa volta quindi un po' più sui settori occidentali in una seconda fase situazione un po' più tranquilla sul Piemonte invece in serata, tanto pomeriggio serata vediamo le temperature in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi comunque avremo massime comprese tra i 21 e i 25 e 26 gradi, un po' dappertutto, poche differenze tra la costa, le zone, vedete le zone interne io per ora ho concluso cari amici, mi raccomando ancora ombrella a portata di mano perché l'instabilità come detto seppur a fasi alterne ci terrà ancora compagnia, arrivederci grazie grazie grazie